Buonasera, ben trovati in questa serata a dir poco calda e umida, qui c'è anche condensa sopra le sedie per farvi capire e quindi sarete anche magnanimi diciamo. Benvenuti a questa terza serata di Filosofia al Mare 2024, quindi la quindicesima edizione di conversazioni che quest'anno sono dedicate all'amore. Io sono Giulio Tatasciore, condivido la direzione scientifica con Maria Pia Falcone e Umberto Curi e appunto il tema dell'amore è un tema che è stato declinato intorno alla categoria dell'amore come parte della condizione umana e quindi in queste serate, lo dico anche a beneficio del nostro ospite, poi presenterò rapidamente, è stata declinata in diverse direzioni, dal motivo mitologico dell'intero che eravamo, l'indicibilità e anche l'invisibilità dell'addio, relazioni sociali e sentimentali e via così. Stasera abbiamo il piacere di avere con noi un noto teologo, pensatore, saggista che intorno a questo tema, si dà il caso, abbia lavorato in maniera intensiva e quindi salutiamo appunto con grande gioia Vito Mancuso. Allora, come sapete il programma di Filosofia al Mare è concepito su due, su un doppio binario, figure se vogliamo più costanti, ospiti ricorrenti che ci interessa interpellare sui temi che scegliamo e perché ci interessa sapere cosa ne pensano, no? Come si fa tra vecchi amici che non è che perché cenano insieme una volta poi smettono di rivedersi con consuetudine e si interrogano intorno a dei temi e poi personalità magari dettate invece dal tema stesso che hanno lavorato sul tema specifico che ci interessa. Vito Mancuso, la faccio breve, incarna un po' la sintesi di queste cose perché oltre a essere uno degli ospiti e amici più affezionati di Filosofia al Mare, ho contato è l'ottava volta che sei qui con noi su 15 edizioni, su 15 edizioni, ma oltre questo è una personalità appunto che si è interrogata lungamente sul rapporto che viene condensato nel titolo scelto per questa sera Amore sacro e amore profano. È un rapporto che viene declinato anche nella lettura consigliata che noi consigliamo, Io amo, Piccola filosofia dell'amore e è un libro dove la riflessione teorica sulla definizione di amore si intreccia anche con quella della morale sessuale e anzi di una possibile etica della sessualità, la definisci. Ma insomma io mi fermo qui perché il mio dovere è di servizio, di ospitalità, voglio solo ricordarvi che alla fine dell'intervento di Vito Mancuso possiamo come nostra abitudine dialogare appunto insieme al pubblico che può intervenire da protagonista e quindi a questo punto scelgo subito la parola a Vito Mancuso. Bene, buonasera, grazie della vostra presenza, della vostra attenzione. Io tenterò di onorarle, entrambe le cose, la presenza attenta, non sempre le presenze sono attente, si può essere presenti senza essere attenti. Ecco, io tenterò di onorare sia la vostra presenza, sia la vostra attenzione con il mio pensiero. Cominciando a dire che a mio avviso è del tutto logico che una rassegna dedicata alla filosofia si occupi dell'amore, perché la filosofia contiene già nel suo stesso nome il termine, il concetto di amore. Filo, tutti voi sapete che filo viene da fileine, fileine è una delle tre modalità, filein, filia, mediante cui l'antico greco nominava l'amore. Gli altri due termini sono, parlo dei sostantivi adesso, sono eros, che non ha bisogno di spiegazioni, e agape, che immagino per la gran parte di voi neppure ha bisogno di spiegazioni, è l'amore universale. Filia è forse la forma più gratuita dell'amore. L'amore è l'amore come amicizia, ma è qualcosa di più del senso di amicizia che noi normalmente utilizziamo. E che cosa ama chi conduce, chi sente dentro di sé filo, Sofia? Lo dice sempre la stessa parola, ama Sofia. E che cos'è Sofia? Tutti voi lo sapete, Sofia, noi la traduciamo sapienza. E cosa intendiamo per sapienza? Intendiamo noi normalmente una proprietà che alcuni esseri umani hanno. Alcuni, rari, qualche volta, non sempre. Però qualche volta capita di incontrare degli esseri umani che sono diversi. Che tu li vedi, parli, e parlando con loro vedi che ti ascoltano. E se ti ascoltano è perché dentro di loro hanno silenzio. Perché si può ascoltare solo se dentro c'è silenzio. Altrimenti non ascolti. Quando l'altro ti comincia a dire qualcosa, tu già vuoi prendere la parola e replicare. Usi le sue parole unicamente per parlare di te. Invece no, qualche volta succede che senti di essere al cospetto di persone diverse, sapienti. E così noi pensiamo che la sapienza sia qualcosa che abbia a che fare con una disposizione del cuore e della mente degli esseri umani. E' giusto? Sì, ma fino a un certo punto. Perché secondo coloro che coniarono questo termine, filosofia, in realtà la sofia era una proprietà prima ancora che di alcuni esseri umani della natura, del cosmo. abitato da armonia. Ed è grazie esattamente al fatto che il caos primordiale da subito era compenetrato da sofia, sapienzia. e noi ci siamo. Altrimenti non sarebbe stato possibile questo lavoro così complesso dell'universo per produrre la vita, l'intelligenza, l'intelligenza buona che cerca la giustizia, che si innamora della bellezza. E non sarebbe stato possibile. E allora gli antichi hanno detto noi non siamo figli del caso, visto che siamo e pensiamo e viviamo. Non siamo figli del caso, siamo figli di sofia, cioè di un'intelligenza cosmica che abita l'essere, lo compenetra e fa sì che questo essere possa formare vita, intelligenza, cuore, mente, ragione. Sapienti. Che sono sapienti perché vivono, aderiscono, partecipano di una sofia che sta prima di loro. Bene. E quindi questo sembrerebbe, se fosse solo così come ho detto, il mondo sarebbe perfetto. Sarebbe bellissimo. Non sarebbe la contraddizione che è. Perché poi uno ci pensa, ragiona e dice sì, è così. Sofia, sapienzia, la natura abitata da Sofia. Poi però, un attimo, apre gli occhi, dopo aver sognato o aver pensato, pensato in quella maniera che quasi sembra un sogno, quel pensiero che ti trasporta, che ti fa salire, che ti trascina, apre gli occhi e torna alla realtà e vede la stupidità e vede il contrario della sapienza e vede che proprio quelle creature, frutto del più alto lavoro dell'universo, che dovrebbero essere gli esseri umani, che sono gli esseri umani, invece di essere sapienti, sono insipienti, invece di essere buoni, sono cattivi, invece di essere generosi, sono spesso furbi, furbacchioni, affaristi e poi vede che la vita non è sempre giusta, che ci sono persone che non ci sono più e non è giusto che alcune persone non ci siano più quando l'età non è compiuta come se... perché non sempre esiste una sapienza nella natura, perché qualcuno deve morire in maniera prematura, quando ancora avrebbe potuto fare ancora un conto e morire, capite? a sazi di giorni, sazi di giorni, quando la morte arriva veramente come una conclusione in un certo senso attesa persino, finalmente. Io mi ho appena scritto delle cose su Kant, beh, Kant alla fine era proprio contento di andarsene. È un conto invece quando non è così. E allora dov'è questa sapienza? Dov'è questa sofia? Sembra che ci sia un'anti-sofia. Da qui nasce la filosofia. Non solo da ospitare Sofia, devi ospitare Sofia, devi essere innamorato dell'ideale e al contempo devi aprire gli occhi sempre in maniera disincantata e ferma e onesta sul reale. Amare l'esattezza anche quando fa male, anche quando è scarnificante, anche quando lacera. e da questo tempesta, da questo tempesta tra il tuo amore per l'ideale e l'amore per il reale, per quello che c'è, nasce non Sofia, filosofia, l'amore per una cosa che c'è e che non c'è, che a volte c'è e lo incontri, lo vedi negli occhi delle persone e a volte non c'è, non c'è niente da fare e negli occhi delle persone incontri il contrario. sto dicendo che se voi non amate l'ideale, non coltivate l'ideale ma solo il reale non potete essere filosofi, potete essere sociologi, scienziati, analisti di ogni tipo ma non potete essere filosofi. se amate solo l'ideale ma non il reale nella sua come si dice questa cosa nella sua concretezza rude volevo dire rudità, rudezza non si dice però nel suo essere rude il reale e non potete lo stesso essere filosofi sarete teologi e basta teologi dogmatici di un certo tipo sarete mistici santi poeti artisti magari artisti musicisti ma non filosofi perché ci possa essere e non è necessario essere filosofi naturalmente non è che è obbligatorio sto dicendo che la costituzione secondo me da come l'ho capita io finora questa disciplina che ci convoca perché io e voi siamo qui questa sera nel nome della filosofia ecco se siamo qui è perché questa forma della mente del cuore è abitata da questo duplice amore per l'ideale e per il reale e questa duplicità provoca una tempesta nella mente e nel cuore e da questa tempesta nasce il pensiero di fatto se voi andate chiudo questo primo punto che era introduttivo ancora non ho parlato del mio tema amore sacro e profano ci arriverò ma ho parlato dell'amore e dell'amore legato a filosofia perché mi è sembrato giusto cominciare così all'interno di una rassegna di filosofia che si occupa dell'amore ecco se voi andate a vedere cosa i grandi filosofi hanno detto in ordine all'origine della filosofia voi vedete che è esattamente così perché da un lato avete Platone e Aristotele che dicono che la filosofia nasce da fauma che è la meraviglia che ti porta più ad amare l'ideale a sottolineare la dimensione ideale la meraviglia in realtà poi qualcuno dice Severino Emanuele Severino era tra questi che fauma in greco è la meraviglia ma è anche la meraviglia negativa la lacerazione lo stupore ma in ogni caso di sicuro Hegel dice che la filosofia nasce invece dalla scissione dal fatto che ti senti separato dal mondo giusto è buono è bello come dovrebbe essere ma ci credi devi continuare a crederci perché altrimenti non hai quel filain quello streben quella passione che ti porta a pensare ti appiattisci uomo ha una dimensione one dimensional man come diceva Herbert Marcuse parlando di tutti noi o meglio di quello che un certo tipo di civiltà mercantile capitalistica vorrebbe che tutti noi fossimo unidimensionali orizzontali consumens adesso vengo al titolo il titolo che ho dato quando Maria Pia mi ha chiesto io la ringrazio sempre tantissimo Maria Pia Falcone moglie vedova del carissimo amico Carlo Tattasciore per il quale sono qui per onorare la memoria del quale sono qui oltre che per l'amicizia ma ecco e grazie al quale noi siamo radunati qui perché siamo radunati nel nome della filosofia ma c'è stato qualcuno che ha pensato di fare filosofia al mare e naturalmente tutti voi lo sapete l'avete conosciuto l'avete stimato gli volete bene ancora siete legati a lui e alle persone che non ci sono più in realtà sono ancora dentro di noi ecco che era che era Carlo ebbene quando si è trattato di scegliere questo il titolo mi è venuto questa espressione amore sacro e amor profano che mi ricorda due cose un quadro di Tiziano 1515 amore sacro e amor profano che si trova a Roma a Galleria Borghese e la canzone di Fabrizio e Andrè Bocca di Rosa che poi portava in processione l'amore sacro e l'amore profano sono due forme diverse di amore quando si intende o meglio si pensa che siano due forme diverse d'amore ma il senso della mia relazione sarà quello di dire e ci arriverò che in realtà l'amore se è amore è sempre solo sacro perché è l'intenzione che fa l'amore non è l'oggetto non è l'oggetto è la modalità mediante cui tu ti disponi di fronte all'oggetto davanti a te oggetto soggetto che tu ami è la maniera con cui stai di fronte a questo oggetto che fa la sacralità dell'amore quando l'amore è vero contiene sempre sia che sia sia che sia rivolto a Dio sia che sia rivolto a un essere umano sia che sia rivolto anche a esseri non umani a un animale per esempio per esempio alla natura per esempio al mare per esempio a una disciplina per esempio la filosofia si può amare la filosofia certo può essere la filosofia l'amore di una persona con un senso di sacralità certo che sì può essere la letteratura l'amore di una persona certo si mi viene in mente Chekhov che parlava del tradimento dice si può tradire in qualunque cosa puoi tradire in ordine a Dio puoi tradire nell'amore naturalmente ma mai nell'arte perché per lui era qualcosa di sacro vuol dire che ogni singola parola che tu scrivi e consegni deve essere pulita fedele e questo è il grande amore che dice Eko vero esattamente per la letteratura ecco quando tu ti trovi al cospetto di una di un oggetto che lo ripeto può essere trascendente oppure può essere immanente e se è immanente può essere personale o impersonale addirittura può essere vivente nel senso di appunto di un essere vivente sia umano sia non umano o anche non vivente uno può amare il mare a parte che il mare vive ma uno può amare sì ho detto una disciplina insomma la musica e vivere di questa passione quando sei al cospetto di questo se è amore se hai questa tu hai tu vivi la stessa medesima dimensione che si ha in ordine a Dio cioè qual è secondo Rudolf Otto che scrisse un libro bellissimo nel 1917 ancora oggi è un classico uno dei più grandi classici sulla filosofia della religione il titolo era Il Sacro Das Heilige il Sacro e lui dice sia Sacro sei in presenza del Sacro hai l'epifania del Sacro quando tu senti che sei al cospetto di un misterium misterium pensiamo a enigma non è vero voi pensate a enigma in prima battuta si pensa che il misterio è una cosa che non si capisce e invece misterium nel senso etimologico e quindi più radicato e più fondante e più vero del termine rimanda al silenzio perché viene dal verbo muo che vuol dire chiudere detto di occhi e di bocca non solo chiudi la bocca chiudi anche gli occhi quando è che voi chiudete gli occhi e la bocca quando dormite va bene ok ma quando non dormite quando 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 una persona chiude gli occhi e la bocca da sveglio quando è in presenza di qualcosa che eccede a cui si vuole consegnare e infatti il misterium viene chiamato il misterium viene chiamato fascinans et tremendum che significa fascinans fascio fascina affascinante è qualcosa che abbraccia che vuoi prendere un fascio di fiori poi vabbè è stato usato anche in termini politici perché va bene perché era le verghe il fascio delle verghe eccetera e quindi dice affascinamento dice abbraccio dice volontà di consegnarti e poi tremendum tremendum tremare timore e tremore tu capisci se sei il cospetto di qualcosa che ami di qualcuno di qualcosa che ami se sei abitato da questa duplice dimensione qualcosa che tu vuoi abbracciare e qualcosa rispetto a cui hai timore come una madre ha timore rispetto ai figli timore quel timore paura attenzione cura cura accudimento ecco insieme queste due cose insieme queste due cose fanno il misterium ecco ogni vero amore è sacro nella misura in cui ospita queste due cose come ceco rispetto all'arte mai tradire l'arte la letteratura o come Mozart o Beethoven rispetto alla musica posso essere combinarle di tutti i colori in altro ambito della vita ma qui questa che è la mia passione io qui sarò sempre il più limpido possibile mai tradire ed è il segno del vero amore bene e quindi questa sarà la tesi che andrò ad argomentare che sto argomentando però quello che voglio dirvi è che naturalmente quando noi diciamo amore sacro amore profano intendiamo distinguere delle cose e distinguere forme di amore è l'amore sacro va bene è l'amore per Dio e l'amore profano è di solito l'amore per un essere umano soprattutto con connotazioni erotiche almeno bocca di rosa che Andrei cantava rimanda esattamente a questo tipo di amore profano e amore invece che cos'è? vedete io penso che uno dei compiti del pensiero sia quello di consegnare per quanto è possibile pensieri chiari distinti come diceva come amava Descartes c'è stato un momento fino a qualche anno fa che il compito della filosofia era quello era quello di introdurre criticità ha cominciato Kant con la critica della ragione pura della ragione pratica del giudizio criticare giusto io penso che il nostro compito sia quello di ricostruire perché a partire dal 1781 l'anno della pubblicazione della critica della ragione pura tutto il pensiero filosofico è stato svolto all'insieme della critica e della decostruzione e oggi non c'è più niente che sia rimasto esente da critica e che sia non decostruito macerie macerie non è colpa era un lavoro che bisognava fare a seconda dei momenti il pensiero non è mai univoco il pensiero quando è vero è sempre vibrante è sempre interpellante alla realtà proprio come un medico che fa la diagnosi al malato a seconda del tipo di malato e di malattia dà un certo tipo di terapia prima bisognava c'era una società troppo dogmatica troppo rigida troppo super egoica avrebbe detto Freud e quindi bisognava togliere tutta una serie di autorità di imposizioni eccetera adesso il super ego è distrutto non c'è più faccio una parentesi perché penso possa essere utile ho un amico psicanalista uno dei più importanti d'Italia che mi ha raccontato tempo fa di questo fatto mi ha detto senti Vito quando io ho iniziato a lavorare le persone venivano da me perché stavano male e perché stavano male perché erano oppresse dal super ego e questo super ego nella forma di vieti precetti di per lo più sotto una voce maschile il padre il padrone il parroco il segretario del partito il professore devi fare non devi fare opprimeva reprimeva le persone le persone stavano male per tutta una serie di sai adesso perché le persone stanno male che vengono da me stanno male sai perché continuava lui che si chiama Stefano Bolognini sai perché esattamente per il contrario perché non c'è più il super ego e stanno male lo stesso perché in realtà il super ego è qualcosa di strutturale tutto questo l'ho detto per dire che il compito del pensiero oggi a differenza di ieri è quello di dare per quanto è possibile definizioni non in maniera rigida ma di mettere di introdurre chiarezza secondo me ed è per questo che vi do la mia definizione di amore voi fatene quello che che ritenete ovviamente la criticherete direte che non vi ritroverete però però anche se non vi ritroverete sarete portati a dare la vostra definizione di amore capendo quello che io vi dico e cosa c'è che non va in quello che io vi dico voi direte ah no io invece penso che l'amore sia e avrete la vostra definizione di amore la mia è la seguente attrazione irresistibile che provoca in chi la subisce un cambiamento permanente di stato attrazione irresistibile che provoca in chi la subisce un cambiamento permanente di stato attrazione e qui non c'è bisogno di spiegare alcun che irresistibile per meno non è amore se è un'attrazione così che posso o non posso assecondare beh non è amore hai trasporto inclinazione simpatia interesse ma non è l'amore che è quella cosa di fronte al quale è quel sentimento rispetto al quale tu sei necessariamente indifeso impotente in balia se chi di voi l'abbia tutti ovviamente l'abbiamo provato fin da bambini quindi deve essere irresistibile e lo capite a partire dal linguaggio tra dire ti voglio bene e dire ti amo ci sono persone che non sono capaci di dire ti amo possono dire ti voglio bene tutte le volte che volete ma ti amo no tra l'altro lo sapete altra cosa che non esiste dialetto italiano correggetemi perché magari nel dialetto vostro non è così non esiste dialetto italiano nel quale si dica ti amo si dice sempre solo ti voglio bene io giro l'Italia questa cosa la vado chiedendo come si dice il che no si dice no non c'è da nostra parte non c'è te viuri ben si dice se no ti amo si dicono a Milano è così ti voglio bene si dice in siciliano non c'è ti amo è una forma che il popolo non conosce che non c'è nei dialetti forse un po' perché ha origini cortesi ma forse perché è qualcosa che espone un po' troppo dire espone un po' troppo a meno che se si usa il linguaggio con la dovuta proprietà perché poi ci sono quelli che dicono ti amo a tutti uno gli dà un passaggio con la mano oh come ti amo oh come ti amo e vede una persona oh amore ciao amore come stai oh amore a cagnolino amore e cosa si ha in questo caso l'inflazione così come la moneta perde potere di acquisto anche le parole possono perdere potere di acquisto perché quell'uomo quella donna che dice amore a tutti quando incontrerà quel giorno quella persona che gli fa venire batticuore e la cui assenza solo il pensiero della sua assenza provoca un vuoto incolmabile come lo chiamerà micino come lo chiamerà cioè le parole hanno una loro vanno rispettate vanno rispettate e chi rispetta la parola amore sente che dire ti amo è tutta un'altra cosa che dire ti voglio bene esattamente perché dice questa dimensione irresistibile e poi ho detto permanente e questa è una cosa molto importante perché segnala la differenza tra l'innamoramento e l'amore attrazione irresistibile che prova un cambiamento di stato questo è l'innamoramento l'amore qual è la differenza tra l'amore e l'innamoramento nascono alla stessa maniera poi l'amore che cos'è una specie oggi si dice upgrade ecco si potrebbe dire un salto di stato di stato di qualità questo è l'amore rispetto e che cosa segna che cosa ti fa capire che sei al cospetto dell'amore e non solo dell'innamoramento che il cambiamento di stato è diventato permanente quando un atomo di ossigeno si unisce a due atomi di idrogeno voi avete la molecola dell'acqua avete un cambiamento di stato oggi in fisica nella fisica quantistica si usa il termine ormai da da tempo la si usa recentemente ho riletto alcune pagine del libro di Heisenberg no no scusate Erwin Schrödinger di Schrödinger che cos'è la vita che cos'è la vita le lezioni che Schrödinger interne tra il 42 e il 43 a Dublino e che poi vennero pubblicate dopo ebbene lì già si parla di santo quantico salto quantico quantic jump salto quantico ecco l'amore è qualcosa del genere è un è tu sei un atomo ti leghi stabilmente a un altro atomo che ci sta a legarti con te perché può anche non avvenire questa cosa ma se questa cosa avviene hai una molecola la coppia che funziona non è due atomi è una molecola è un cambiamento permanente di stato nell'uno e nell'altro è un salto quantico e la differenza tra amore e innamoramento questa cosa permanente lo si capisce anche dal fatto che l'amore mentre l'innamoramento è turbamento nell'amore il turbamento viene meno e hai un rafforzamento ti rafforzi trovi fiducia hai trovato finalmente un rifugio sicuro una rocca una rocca un castello una fortezza qualcosa di forte mentre l'innamoramento non è forte ti indebolisce è un turbamento l'amore il passaggio dall'innamoramento all'amore corrisposto se compiuto dà questo senso di forza e uno non si sente più solo e il fatto che non ci si senta più solo la lingua lo testimonia pensate il bellissimo con pensate alla preposizione con che forma il termine coniuge coniungo mi unisco con coniuge che forma il termine con sorte la mia sorte non è più solamente mia è legata alla sorte di un'altra persona con sorte e poi forma anche il termine compagno che significa con pane con pane la persona a cui mangio il pane e quindi questo con va bene questo è la definizione di amore attrazione irresistibile che provoca in chi la subisce un cambiamento permanente di stato incipit vita nova ricordate Dante incipit vita nova ogni vero amore è questo ed è sempre qualcosa che va per quanto è possibile ripreso coltivato proprio come se fosse un fiore proprio come se fosse un giardino che va continuamente irrigato è nutrito incipit vita nova amore per Dio anche per Dio c'è questo c'è questo amore adesso voglio voglio parlare dell'amore per Dio perché che cosa significa amare Dio questa è la cosa che dobbiamo tentare di indagare che voglio tentare di indagare e sottoporre la vostra la vostra attenzione tentando di arrivare a mostrare come amare Dio significa in realtà è in gioco la stessa intenzionalità globale che si ha nell'amare una singola persona una disciplina e così però si tratta bene di capire che cosa significa amare Dio perché quando mi dici di amare una singola persona o anche la musica o la filosofia o la politica o il mare io lo so cosa vuol dire la vedo lei la posso abbracciare la musica la posso ascoltare la posso suonare e il mare ci posso immergere tutto chiaro che cosa significa dicendo queste cose ma amare Dio cosa significa amare Dio Spinoza nel 1670 nella prefazione al trattato teologico politico dice così per il volgo religione significa tributare sommo onore al clero per il volgo religione significa tributare sommo onore al clero per il volgo per il più quindi amare Dio in realtà significa amare la propria religione amare la propria religione significa amare la propria chiesa amare la propria chiesa significa amare i capi della chiesa uno dice di amare Dio e poi che cosa fa come traduce questo amore per Dio lo traduce nell'amore per la messa nell'amore per la Bibbia nell'amore per una serie di pratiche religiose e così e hai a che fare con l'amore per Dio in questo caso domanda retorica hai a che fare con la domanda retorica alla cui risposta è no ovviamente voi potete trovare molte persone che amano la chiesa ma non hanno quell'amore per Dio che cosa vuol dire amare Dio vuol dire adesso lo vediamo ma di sicuro o è universale o l'amore per Dio ti porta a ospitare un'apertura di cuore e di mente tale da amare tutti per quanto è possibile da un essere umano per quanto è possibile da un essere umano perché attenzione omnis determinatio negatio est questo è un principio decisivo della logica per cui tu nella misura in cui determini una forma un oggetto di amore immediatamente neghi tutta una serie di oggetti che non riesci ad amare perché se ami questo non ami le altre come dice amo una donna e non puoi amare le altre e quindi però nella misura in cui l'amore è universale l'amore per Dio è autentico scusate ti porta a un'apertura per cui ogni non è un amore determinato per una religione ma diventa uno stile un modo di essere sì uno stile un modo di essere anche perché i grandi mistici ci insegnano che l'ultimo ma forse neanche l'ultimo anche il penultimo anche il terzultimo livello della progressione nel cammino religioso è quello di negare la religione non negarla dicendo che è falsa ma sentendo che c'è qualcosa di più importante che è la vita stessa e non solo sempre i grandi mistici ci fanno capire che tutte le dottrine le dottrine le cose che il dogma e la Bibbia e i catechismi vari dicono su Dio sono vere fino a un certo punto poi poi le devi negare Gregorio di Nissa diceva Gregorio di Nissa vescovo teologo padre della chiesa quarto secolo dopo Cristo uno dei più importanti pensatori cristiani diceva la divinità abita laddove non giunge la comprensione ricordatevela questa frase lo dico a chi di voi è interessato a cose religiose chi coltiva l'amore per il la divinità abita laddove non giunge la comprensione e Agostino diceva se hai capito non è Dio si cepisti non est Deus perché ogni atto di comprensione vedete che faccio così con la mano vedete faccio così ogni atto di comprensione implica una qualcosa che prendi e che e che avendolo preso lo lo domini capire in italiano capire viene da capio capere in latino il cui primo significato non è capire ma è conquistare ogni cosa che tu capisci l'hai conquistata e questo che vale per l'italiano vale anche per l'inglese understand understand under sotto stand sta sotto ho capito è sotto di me ho capito anche il tedesco stein rimanda fer stein è qualcosa che sta sotto e come puoi capire il senso il principio di tutte le cose il senso complessivo puoi tu semmai essere capito nel senso di essere preso compreso semmai e allora torna ancora di più la questione cosa vuol dire amare Dio se riesco neanche a capirlo se progredendo se progredendo nella dottrina spirituale nella vita spirituale se diventando ogni giorno per quanto è possibile più luminoso più vero più trasparente più pulito se non volendo che la mia religione abbia supremazia rispetto alle altre insomma facendo tutto questo arrivo a superare tutte le determinazioni e capisco che Dio non lo capisco che cosa amo amando Dio quid autem amo cum te amo l'ho detto in latino perché questa frase la dice Agostino confessioni libro decimo il libro più bello secondo me dei tredici che compongono le confessioni uno dei libri beh le confessioni di Sant'Agostino lo conoscete uno dei libri più belli di tutti i tempi il libro decimo è il più bello quindi pensate che meraviglia è infatti adesso vi leggerò una cosa meravigliosa che viene dal libro decimo delle confessioni che contiene esattamente questa domanda intelligentissima di lui vescovo teologo che si pone che si pone di fronte all'eterno al grande mistero dell'essere ha ricevuto il comando che viene nella Bibbia nella Bibbia Deuteronomio e altri passi ancora che dicono amerai il Signore Dio tuo ascolta Israele amerai con tutto il cuore con tutta la mente così via e vi ricordate anche quella pagina di quando uno scriva va da Gesù e gli dice qual è il primo dei comandamenti e Gesù come risponde amerai il Dio tuo con tutto te stesso con tutta la tua mente con tutte le tue forze con tutto il tuo cuore Agostino ha sentito queste cose pensa di amare Dio poi però si ferma un attimo si ferma si siede così come siamo seduti a noi e dice ma che cosa amo quando amo te ho capito che non ti posso afferrare ho capito che sei al di là e io quindi che cosa amo sentite che cosa dice Agostino confessioni libro decimo ma cosa amo quando ti amo è interessante adesso vedrete non parla delle cose che noi normalmente diciamo sì un credente normale dice beh quando amo Dio amo Gesù amo la messa amo la Bibbia amo no sentite non c'è niente di religioso nelle cose sì forse un accenno ai canti i canti liturgici ma sentite cosa dice ma cosa amo quando ti amo non la bellezza del corpo non la grazia dell'età non il fulgore della luce così caro sia questi occhi non le dolci melodie dei canti a tono variato non la fragranza dei fiori unguenti aromi non la manna il miele non le membra fatte per gli amplessi carnali non è questo che io amo amando il mio Dio e poi continua dicendo che dicendo queste parole dicendo eppure amando il mio Dio amo una certa luce e una certa voce e un certo profumo e un certo cibo e un certo amplesso e qual è questa dimensione di cosa sta parlando qual è questa certa luce questo certo amplesso qual è che cosa dice ecco la risposta amando il mio Dio io amo la luce la voce il profumo il cibo e l'amplesso dell'uomo interiore che è in me confessioni libro decimo sei otto per me questo è stupendo per me questo è bellissimo amando Dio noi amiamo la luce dell'uomo interiore che è in noi non amiamo qualcosa che sta chissà da quale parte ma amiamo quell'innamoramento che talora scaturisce dentro di noi rispetto alla bellezza alla giustizia alla verità all'amicizia all'amore amiamo Sofia amiamo Sofia filosofia perché la luce dell'uomo interiore che è in noi è Sofia che non è semplicemente solo la saggezza nel senso della sì la sapienza nel senso della saggezza quella cosa che mi porta a ragionare bene ma è la manifestazione della logica più profonda grazie al quale c'è l'essere grazie al quale c'è il mondo è il divino così come si può manifestare è l'epifania più assoluta più bella più luminosa dell'essere è dentro di noi non è fuori di noi e io lo dico perché guardate questo mondo in questo momento non questo mondo questa umanità in questo momento sapete di cosa soffriamo noi di sfiducia e sapete in che cosa abbiamo sfiducia in noi stessi nell'umanità abbiamo sfiducia nell'umanità quando sentiamo umanitas quando sentiamo umano tutti quanti immediatamente pensiamo umano no troppo umano ci sono molte persone che amano gli animali non perché amano gli animali ma cosa è dispetto degli umani e non abbiamo del tutto torto lo capisco a prendere le distanze da alcune manifestazioni degli esseri umani anch'io lo faccio troppa gente troppa folla troppo lo capisco però però non bisogna perdere questa fiducia nel cuore e nella mente e nella capacità di pensare che hanno gli esseri umani non bisogna perdere questo perché se perdiamo questo perdiamo la cosa più preziosa che abbiamo secondo me la sofia la filosofia intesa non come disciplina accademica che si insegna all'università spesso in modo che nessuno capisce no si intende la saggezza la filosofia di vita la filosofia di vita che tutti capiscono bene questo è quello che dice Agostino cosa vuol dire amare Dio vuol dire amare la luce dell'uomo interiore che è in me e adesso vi leggo due righe che uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi si chiamava Giorgio di nome Georg in realtà Georg Willen Friedrich Giorgio Guglielmo Federico Hegel scrisse quando aveva 28 anni il cosiddetto Giovane Hegel il Giovane Hegel li scrisse non per pubblicarli in una serie di fogli che aveva per fare ginnastica la ginnastica con la mente lavorava su di sé i fogli da cui poi sono scaturiti i suoi scritti questi fogli lui non li pubblicò mai vennero poi pubblicati adesso non ricordo se era il 1905 o il 1907 mi sfugge l'anno ma è uno dei due da uno studioso che si chiamava Noll con il titolo scritti teologici giovanili teologici perché sono pieni di teologia e sono pieni di teologia perché Hegel studiò da teologo come immagino tutti voi quasi tutti voi sapete nello Stift di Tübingen si laureò in teologia insieme a Schelling insieme a Hölderling studiavano teologia fece anche delle prediche ma era molto scarso predicare dicono molto scarso va bene e in questi scritti composti non per essere pubblicati ma composti per sé per pensare scrive questa riga e mezza sull'amore anzi due frasi sull'amore ve le leggo entrambi la prima solo nell'amore si è uno con l'oggetto né lo si domina né se ne è dominati avete presente la molecola di cui ho parlato prima ecco qua nell'amore quello vero si è uno con l'oggetto uno unito al punto tale che non è più neanche un oggetto è soggetto oggetto quello che è un oggetto diventa diventata parte della tua soggettività e quello che è la tua soggettività diventa oggettività per l'altra cioè c'è proprio questa fusione e quindi né lo domini né ne sei dominato cioè vasi comunicanti voi direte è difficile e io rispondo è vero ma tutte le cose importanti della vita sono difficili bisogna lavorare per queste cose all'inizio magari sono vengono spontanee poi bisogna lavorarle bisogna custodirle va bene questa è la prima frase che Hegel scrive aveva 28 anni lui era nacque a Stoccard nel 1770 nel 1799 1898 scrive queste cose ed ecco la frase ancora più importante ancora più importante l'amore può avere luogo solo nel porsi dinnanzi al nostro uguale dinnanzi allo specchio e dinnanzi all'eco della nostra essenza perché ci sia amore quello vero tu devi sentire questa cosa può avere luogo solamente anche Pitagora lo dice rispetto all'amicizia Pitagora dice che e Aristotele lo riprende nell'etica nicomaco mi viene in mente adesso non l'ho scritta questa cosa lo dice riguardo all'amicizia puoi avere filia solamente rispetto a un uguale Hegel lo dice rispetto all'amore ma capite che la stessa cosa dell'amore di Dio è uguale se l'amore di Dio è amore della luce dell'uomo interiore che è in me e se l'amore per lei o per lui o per chi volete voi insomma il vostro oggetto dell'amore è in realtà amore che sì per una persona che è diversa da te ma che in realtà è uguale a te è la medesima logica è la logica del sacro che è qualcosa di distinto misterium tremendum è anche però qualcosa di perfettamente coinvolgente affascinante appunto da essere un legame un legame che è la medesima cosa misterium fascinans bene questa era la tesi che volevo dimostrare e spero dimostrare proporvi e spero di averci amore sacro e amore profano non c'è differenza la frase di Agostino libro decimo delle confessioni e questa frase degli scritti teologici giovanili di Hegel alla fine dicono la medesima cosa rimane infine da rispondere a questa domanda che rapporto c'è tra il vostro sentimento di amore quando voi amate quando voi siete siete disposti aperti è la logica vera della realtà quando voi amate siete avete più essere siete più nell'essere siete più vitali siete oppure no oppure rispetto alla logica del reale che non conosce l'amore vi state illudendo state prendendo come dire una specie di respiro un attimo di follia quasi per riprendere fiato che rapporto c'è tra la vita e l'amore ci sono tre possibilità di risposta sceglietevi la vostra la prima l'amore è una follia rispetto alla logica del reale la logica del reale la logica della natura anche la logica dell'economia della storia tutto ciò che non conosce l'amore non conosce questa dimensione di gratuità dell'amore e quindi l'amore è semplicemente una follia è qualcosa di cui abbiamo bisogno è la posizione di Nice è la posizione di Umberto Galimberti è la posizione di tanti altri che pensano che tra realtà tra la logica della realtà e la logica dell'amore c'è totale separazione all'opposto all'opposto c'è la risposta per esempio di Spinoza il quale dice che tra la logica della realtà e la logica dell'amore c'è perfetta identità l'amore governa tutto tutto l'universo obbedisce all'amore conoscete quella canzone di Batiato tutto l'universo obbedisce all'amore ecco questa la può dire un mistico e Batiato lo era e Spinoza lo era Spinoza diceva per realitatem et perfezionem idem intelligo cioè tra realtà per realtà e per perfezione io intendo la medesima cosa e infatti dice che il sentimento che ognuno di noi deve ospitare è quello dell'amore amore per Dio laddove Dio per Spinoza è la natura la natura intesa proprio come l'insieme dell'essere amor erga deum quindi quando io ho amore per Dio ho amore per il mondo ho amore per me dire amore dire adesione alla realtà è la medesima cosa siamo totalmente all'opposto rispetto alla prima posizione oppure c'è la terza che è la mia quella di chi pensa che l'amore sia una promessa un'epifania una promessa di un mondo di una di Sofia noi non abbiamo a che fare con Sofia abbiamo solo a che fare con filosofia perché come ho detto all'inizio Sofia è sempre contrastata da tutta una serie di cose dalle malattie dall'ingiustizia dall'ignoranza e queste cose saranno sempre con noi la ragione sarà eternamente insoddisfatta e tuttavia innamorata innamorata della metafisica e insoddisfatta della fisica ed è esattamente in questa dimensione che scaturisce il vero pensiero e l'amore che cos'è? l'amore è una promessa il fatto che ci sia è la promessa che forse la nostra vera dimensione è destinata a un compimento che non è che non è questo questa sarebbe la conclusione della mia conferenza però io non voglio concludere con questo ma voglio concludere con una cosa che con l'amore forse non c'entra ma forse c'entra che è una frase di Anne Arendt che sto leggendo in giro in tutti i contesti possibili e immaginabili perché perché ho paura dei nostri giorni ho paura che i nostri giorni possano essere l'inizio di un nuovo totalitarismo dopo il totalitarismo bianco dell'inquisizione dove si bruciavano uomini i libri semplicemente perché la pensavano diversamente dopo il totalitarismo del novecento nero e rosso che abbiamo avuto adesso c'è il pericolo di un nuovo totalitarismo scegliete voi il colore quello della tecnica tecnologia intelligenza artificiale e così via io non ho niente contro tutte queste cose nella misura in cui sono usate da tecnici da persone da ricercatori ma nella misura in cui diventano uno strumento di distrazione di massa di distrazione io ne ho un po' di paura ne ho e quindi io ho preso un impegno di leggervi queste frasi questa frase che Hannah Arendt per la quale la mia venerazione il mio amore è sommo ecco scrisse nel 1954 alla luce della sua esperienza di persona che aveva conosciuto con la propria stessa vita il totalitarismo nazista e aveva studiato il totalitarismo comunista perché voi sapete che lei scrisse uno dei libri più importanti sui totalitarismi Le origini del totalitarismo pubblicato nel 1951 se ricordo bene la data. Ebbene lei tre anni dopo la pubblicazione delle origini del totalitarismo tenendo un corso negli Stati Uniti d'America su Socrate viene a dire queste parole che poi vengono pubblicate, le trovate nel libro pubblicato dalla casa editrice Raffaello Cortina di Milano Ann Arendt, Socrate, la pagina a memoria non la ricordo ma dentro lì le trovate e le parole sono queste Noi che abbiamo fatto esperienza delle organizzazioni totalitarie di massa sappiamo che il loro primo interesse è eliminare qualunque possibilità di mi sono fermato perché voglio che voi pensiate le organizzazioni totalitarie di massa hanno come primo interesse eliminare qualunque possibilità di che cosa avete detto bene pensiero qualcuno ha detto libertà però lei non scrive né pensiero né libertà lei scrive la condizione che fa nascere il vero pensiero e la vera libertà perché il pensiero non nasce così non basta dire io penso per pensare occorre disciplina occorre soppesarli i pensieri verificarli e per fare tutto questo c'è bisogno di una precisa condizione e adesso io ricomincio da da capo e non mi fermo più e sentirete che cosa dice Ann Arendt noi che abbiamo fatto esperienza delle organizzazioni totalitarie di massa sappiamo che il loro primo interesse è eliminare qualunque possibilità di solitudine noi possiamo facilmente testimoniare come non solo le forme secolari di coscienza ma anche quelle religiose vengano eliminate quando non è più garantito lo stare un po' da soli con se stessi in certe condizioni di organizzazione politica la coscienza non funziona più un essere umano non può mantenere intatta la propria coscienza se non può mettere in atto il dialogo con se stesso cioè se perde la possibilità della solitudine necessaria per ogni forma di pensiero non sta parlando non ha parlato Ann Arendt della solitudine come isolamento naturalmente che è sempre negativa ha parlato della solitudine come raccoglimento e se io ho letto questa cosa perché penso che il nostro tempo un tempo del rumore un tempo della chiacchiera un tempo della distrazione è nemico è esattamente una forma di totalitarismo che vuole togliere agli esseri umani la possibilità della solitudine perché quando sei nella solitudine intesa non come isolamento ma come scelta tua di stare un attimo da solo e pensare quando fai questo non sei più manipolabile diventi indipendente diventi libero pensi e pensando sei appunto libero ed essendo libero non sei manipolabile da tutte le varie forme di totalitarismo ecco io penso che uno dei compiti dell'amore siccome perché ho detto questo uno perché l'ho detto temo che si possa profilare nel nostro tempo una forma di totalitarismo diciamo grigio secondo perché siamo filosofia al mare e si può avere in un contesto di filosofia e anche la filosofia richiede necessariamente il pensiero personale e il pensiero personale può avvenire solamente nella solitudine quando tu hai letto hai ascoltato hai avuto un grande professore bene poi ti raccogli pensi ponderi quello che il professore ha detto e pensi da te e pensi da te e questa cosa la puoi fare solamente in solitudine non poi per rimanere al sol poi per tornare dal professore dagli amici e dire in maniera responsabile io penso vi hai pensato non hai chiacchierato quando poi parli se parli dopo aver pensato non chiacchieri dici delle cose ma perché ci sia questo ci deve essere solitudine quindi insomma in conclusione non fatevi rubare la solitudine necessaria anche per l'amore ne sono sicuro grazie dell'attenzione grazie non lo volevo interrompere io questo applauso veramente grazie penso da parte di tutti la mia funzione a questo punto è doppiamente di servizio ossia non rovinare questo bel momento e dare invece a chi sono sicuro che tra questo migliaio e più di persone qualcuno che voglia come dire entrare in dialogo ovviamente con Vito Mancuso c'è il nostro in ordine pratico c'è il nostro Nicola che è qui che è pronto a raccogliere le vostre domande osservazioni questioni soprattutto ecco qui buonasera e grazie molte quando lei ha letto quel passo di Agostino quando amo Dio amo la luce dell'uomo interiore che è in me volevo chiedere che se secondo lei questa luce è più simile alla luce del sole cioè una luce che emana da se stessa o se è più simile alla luce della luna cioè che riflette una luce di un'altra sorgente e qualora fosse più simile alla luce della luna quali sono le sorgenti originarie che alimentano la nostra luce interiore cioè dove ci dobbiamo abbeverare chi nutre questa luce come la si coltiva grazie grazie a lei ha fatto una domanda bellissima davvero grazie capisco gli applausi anche non so neanche se sono in grado di rispondere perché c'è anch'io ci sto pensando viene spontaneo naturalmente pensare che noi umani essendo creature essendo finiti non siamo non splendiamo di luce propria ma riflettiamo una luce che proviene d'altrove direi che è che è così anche i grandi i grandi luminari non a caso si dice si può dire luminari sono diventati tali grazie alla cultura che è stata loro trasmessa certamente hanno avuto un'intelligenza diciamo così superiore la quale comunque a loro volta a sua volta è stata trasmessa ma in ogni caso questa intelligenza superiore se non fosse stata educata vuoi nel campo musicale vuoi nel campo pittorico vuoi nel campo filosofico tecnico scientifico eccetera non avrebbe prodotto quello che ha prodotto quindi direi che noi anche quando riflettiamo nel senso proprio dello specchio riflettere ecco non nel senso tra l'altro poi quando noi diciamo riflettiamo usiamo sempre il termine riflettere in senso traslato è per quello che per esempio si dice speculazione filosofica è lo speculum la riflessione va bene ecco sì appunto sempre noi riflettiamo qualcosa che abbiamo ricevuto quindi direi certamente siamo più simili alla luce della luna ed è anche per questo che possiamo perdere questa luce ci sono dei momenti in cui la luna noi non la vediamo non c'è non c'è luce insomma vabbè questo che vale per la luna ma vale anche per gli esseri umani noi ci sono esseri umani che in alcuni momenti in alcune stagioni della vita per lunghi anni sono stati luminosi e poi non lo sono stati e viceversa persone che non erano per una serie di circostanze di motivi sono diventate luminosi Agostino hanno di questi quindi vuol dire che noi abbiamo sempre bisogno di collegamento sì di nutrire la nostra luminosità diciamo così e più ci nutriamo di luce più siamo luminosi meno 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 ci nutriamo meno siamo luminosi come nutrirci mai per me la parola che immediatamente sorge è cultura cultura che che significa coltivazione e che rimane anche a culto si può avere un rapporto con la cultura libresco si può avere un rapporto con la cultura professionale e si può avere un rapporto con la cultura esistenziale e quando si ha un rapporto con non so con la poesia di Leopardi che è di tipo esistenziale allora quelle poesie diventano luce dentro di te magari una luce essendo la poesia di Leopardi non così radiosa come la la luce che emana Dante ma ci sono diverse modalità di essere c'è la luce del tramonto la luce dell'alba c'è la luce del meriggio non tutte le luci hanno lo stesso tipo di ecco di luminosità di radiosità ma tutte sono belle cultura e poi il mistero il mistero il rapporto con il sacro io credo molto io credo in Dio e credo che più che e lo penso come luce tra l'altro il nuovo testamento solo tre volte in tutta la Bibbia solo tre volte si dice Dio è per indicare con un sostantivo l'essenza specifica di Dio e i tre sostantivi che sono usati sono pneuma agape e fos pneuma vuol dire spirito Dio è spirito agape l'ho detto all'inizio Dio è amore fos fos fotos luce Dio è luce sì lo dice il nuovo testamento ma tutti i mistici esprimono questa dimensione di Dio come luce e anche come tenebra e anche come notte oscura quindi sì si ha il contatto con la natura e il contatto con la dimensione sacra la dimensione sacra la si può esercitare diciamo così sperimentare nella religione ma anche non nella religione qui siamo a due passi dal mare il mare non può essere una manifestazione sacra per gli antichi lo era c'era un Dio del mare è così ogni forma di natura la natura quando noi purtroppo non abbiamo più un contatto vero con la natura anche il mare ci sono gli esdraio gli ombrelloni è tutto qualcosa di umano di antropizzato non c'è più il contatto insomma bisogna cercarselo il contatto con la natura nella sua dimensione direi selvaggia e più originaria ma là dove questo avviene qui si può toccare il sacro quindi può essere la cultura può essere la religione può essere la natura poi dipende molto dalla disposizione di ciascuno direi anche l'amore personale mi viene in mente un brano di Balzac Papa Goriot il protagonista dice quando sono diventato padre ho capito Dio gli affetti gli amori l'amore per un uomo l'amore per una donna l'amore per un figlio l'amore per un nipote l'amore per persone veicolano mistero e questo mistero nella misura in cui non lo spegni e lo approcci in una maniera autentica genera luminosità genera luce e ti fa capire ti fa prendere le distanze dalla banalità ecco dalla chiacchiera della superficialità e si va alla ricerca delle cose autentiche sì spero di aver risposto vediamo vediamo se c'è qualcun altro la Giuseppe grazie grazie non volevo chiedere partendo dalla definizione di amore che ha dato all'inizio che valore ha l'amore non corrisposto e intendo non soltanto per l'amore profano ma anche per l'amore sacro non mi ricordo più quale santo che ha avuto un lungo periodo in cui non riusciva più a sentire la fede quindi che valore ha l'amore non corrisposto grazie aiuto signora io sono domande bellissime che mi fate non lo so non ci ho mai pensato e vediamo di pensare adesso distinguendo Dio e l'amore umano beh l'amore umano non corrisposto che valore ha niente è un investimento andato male capita cosa posso fare capita sono cose che capita uno si innamora e l'altra persona dice guarda non è cosa sono cose che valore ha è una lezione in ordine è una lezione uno capisce che che nella vita ci sono anche delle sconfitte e poi cosa si può fare o si desiste completamente o si insiste e se si insiste si può andare incontro o a un'ulteriore sconfitta oppure l'altro l'altra che sia che che vede la dedizione e ci ripensa e può nascere dipende sapete di più non saprei proprio cosa dire però ci sono effettivamente possono esserci dei drammi possono esserci degli amori la coppia la coppia dove effettivamente succede che uno continua ad amare e l'altro non più l'altro l'altra non più e hai effettivamente un fallimento la coppia la molecola che si era costituita viene meno e se se l'accordo è reciproco dice l'atomo di ossigeno ai due di idrogeno sentite è stato bello ma adesso insomma ho trovato un altro atomo voglio provare a fare qualche altra molecola insomma se tutti sono d'accordo va benissimo ma se invece no se no succede che effettivamente c'è tanta sofferenza sono cose che succedono che avvengono e che valore può avere guardi nella vita esiste il fallimento e lei lì signora sì no no ma io non sto dicendo che non è il fallimento soggettivo cioè la persona può continuare ad amare senza essere però è un fallimento oggettivo rispetto a un progetto e tuttavia chi continua a sentire questo questo amore e continua lo può veramente tenere come qualcosa di autentico di vero e non è detto che poi non si possa riprendere è complicata la vita al riguardo è successo di tutto nella storia del mondo di tutto e tutto succederà quindi non c'è mai nessuna spiegazione l'unica cosa che possiamo fare che il pensiero può fare può capitare A, B, C, D tutti i vari casi e poi sì pronto sì pronta quelle varie cose ecco e per quanto riguarda Dio io non lo so sì il tacere la notte oscura e lì bisognerebbe capire se è Dio che tace o se invece è quell'immagine che tu avevi di Dio che si rivela alla fine inappropriata per esempio si dice ecco un tempo Dio faceva molti miracoli era molto presente le persone pregavano succedevano apparizioni miracoli e adesso nei miracoli ce ne sono molto meno molto meno quasi quasi niente sì ogni tanto qualcosa ancora come mai è Dio che si è ritirato oppure siamo noi che insomma proprio l'altro giorno dicevo leggevo un conto è i pescatori con le reti a pesca barchi a remi un conto i moderni pescherecci con le reti a strasci con il motore e così via i primi sono molto più propensi a credere a Dio che non i secondi quindi che cosa vuol dire che Dio tace non lo so è veramente sono io sono però questo sì restio ad attribuire alla divinità atteggiamenti antropomorfici quasi che appunto dice beh adesso adesso mi sono rivelato adesso a lui non mi rivelo più lo metto alla prova lo metto nella notte oscura per vedere se ecco tutte queste maniere di pensare Dio così in termini umani non mi convincono non mi sembrano all'altezza del divino il divino è un sole che splende sempre che dà continuamente sempre è intelligenza che irradia luce e bontà e armonia e sempre non dice adesso arrivo mi nascondo e poi mi rivelo questo popolo perché lo amo di più rispetto agli altri popoli no io queste cose non le credo da tempo Dio è la somma intelligenza sommo bene per tutti gli uomini di tutti i tempi e a tutti continuamente si rivela e si rivela come bellezza come armonia come vita come ecco quindi quindi in che senso si può avere non c'è da parte di Dio l'amore non corrisposto non penso che si possa dire che da parte mi rifiuto di pensare che da parte di Dio ci sia la non corrispondenza dell'amore mi rifiuto di pensare che Dio dica come alcune pagine della Bibbia dice ho amato Giacobbe ho odiato Esau ecco questa per me è un'affermazione biblica falsa e Dio non può odiare Esau così perché gli gira scusate l'espressione poco raffinata o accettare il sacrificio di Abele e non accettare il sacrificio di Caino semplicemente così perché perché doveva gradire il sacrificio di un fratello e non di quell'altro e quindi suscitando poi l'odio di uno dice com'è che lui è il preferito io no ecco questa maniera umana direi infantile di pensare il divino che può preferire e che quindi può non corrispondere la congedo volentieri dalla mia mente e invito anche voi a congedarla dalla vostra c'è spazio ancora per direi un paio di domande senza abusare della disponibilità del nostro ospite ovviamente buonasera professore io la ascolto molto spesso sul Rai 3 alla trasmissione di Giorgio Zanchini e mi complimento con lei volevo farle questa domanda io nella mia vita con mia moglie con i miei figli con i nipoti non ho mai saputo dire ti amo però ecco prendo spunto da quella sua indicazione Gesù tante volte ha parlato di ti amo lo diceva a Pietro lo dice al giovane che gli va a chiedere cosa deve fare per entrare in paradiso gli dice fai questo e quello lui dice l'ho fatto si rivolge a lui con gli occhi dice che lo amò che cosa significa vorrei capirlo perché io questo ecco questa espressione non riesco a a menzionarla grazie grazie a lei anche questa è una bella bella domanda lei mi chiede in sostanza cosa significa dire ti amo a una persona poi ha fatto gli esempi di Gesù va bene lui di per sé si ha detto il testo dice l'amò però Gesù non mi risulta abbia detto ti amo a qualcuno ha chiesto a Pietro mi ami tu si a Pietro nel finale di Giovanni mi ami tu più di costoro non ha detto io ti amo ha chiesto mi ami tu più di costoro dice si signore lo sai che ti amo poi la seconda volta mi ami tu la terza volta poi sembra che sia un collegamento con il triplice rinnegamento però non ha detto Pietro ti amo non ha detto neanche al discepolo cosiddetto amato non risulta che abbia detto ti amo ma a prescindere da quello che ha detto non ha detto Gesù io ho molto apprezzato la sua sincerità lei ha detto appunto io ho moglie figli nipoti eccetera e non sono mai riuscito nella mia vita a dire ti amo e certo non è solo l'ho detto anche prima non è facile anzitutto c'è una forma di educazione come ho detto prima i dialetti che sappia io non c'è non c'è in nessun dialetto italiano l'espressione ti amo quindi vuol dire che non è naturale è qualcosa di poetico di cortese nel senso della corte della corte raffinata del dolce stil novo e allora lì i signori potevano permettersi di ecco ma la vita il popolo così non contempla questa possibilità guardi probabilmente è un fatto è un fatto di quando è vero quando è vero è proprio una uno spogliamento una spogliazione di sé perché dire io ti voglio bene c'è qualcosa ancora sto pensando adesso per la prima volta non sono sicuro di quello che le dicono non sono sicuro ma dire io ti voglio bene c'è questo ti voglio ti voglio ti voglio bene c'è ancora un essere in possesso di se stessi probabilmente qualcuno fa fatica probabilmente lei fa fatica a dire ti amo non l'ha mai detto uno perché uno non è stato educato va bene ma perché non è stato educato e torniamo perché suppone probabilmente una spogliazione e per noi di una certa età appunto adesso magari molto più perché ci sono tanti film che lo dicono insomma per chi cresce forse lo si dice come ho detto prima anche a a chiunque insomma o come ti amo e questo punto non ha più nessun senso ma riprendere il senso originario forse è così difficile perché perché mostra una spogliazione di sé un mettersi nelle mani degli altri un mostrarsi debole mentre dire io ti voglio bene ancora è un'affermazione della propria volontà dire ti amo probabilmente è sentito come un essere in balia dell'altro probabilmente però occorrerebbe avere una preparazione una conoscenza del fenomeno umano diverso da quella che ho che ho io per poter rispondere in maniera adeguata facciamo l'ultima se ce ne sono magari le raccogliamo una due ecco le raccogliamo un giro molto veloce sintetico ecco così perché è tardi per tutti poi mi fate le domande difficili io non so rispondere bene buonasera buonasera allora la mia domanda è questa in un mondo in cui abbiamo tutto e non ci manca niente eppure eppure nonostante tutto cresce l'infelicità e soprattutto nel mondo giovanile c'è una fortissima fortissima depressione giorni fa infatti in un libro che ho letto di Pietro del Soldà proprio questo si diceva che cresce l'infelicità nel mondo giovanile ed è aumentata la depressione allora io dico il giovane che non si ama più e che consigli si possono dare che cosa si può dare come consiglio ai giovani perché purtroppo è una è un male che cresce sempre di più il giovane non è sicuro di se stesso il giovane nonostante abbia tutto eppure c'è questa grande infelicità e depressione che sta aumentando sempre di più grazie signora ma forse vede nonostante ma abbia tutto ma a causa del fatto che ha tutto penso di sì penso di sì penso che sia proprio la famosa vecchia partita di Eric Fromm penso che tutti voi ricordate il libro bestseller avere o essere punto di domanda ecco ovviamente uno dice avere o essere risposta della persona saggia tutte e due è chiaro che sì tutte e due perché possiamo essere senza avere alcune cose è chiaro che il nostro essere è un essere bisognoso e questi bisogni si chiudono tra le cose non è che si tratta di fare la guerra alla vere alle cose il punto è quale delle due comanda se io penso di poter dare la felicità usiamo pure questo termine a mio figlio riempendolo di cose fin dalla tenera infanzia per cui a cose e cose e giocattoli poi dopo i giocattoli per arrivare ad avere il telefonino l'altro giorno io vivo a Bologna in centro da qualche anno ormai l'altro giorno ho visto un padre col passeggino all'interno del passeggino c'era presumo un bambino presumo il suo figlio presumo il padre perché immagino che aveva il cellulare in mano ora un bambino che stava nel passeggino quanto può avere tre anni quattro anni al massimo aveva in mano il cellulare cioè che cosa bisogna pensare di tutto questo cioè è veramente le cose poi ci sono cose e cose poi c'è questa cosa con la C maiuscola cosa cosona che è che la tecnologia che ti apre un certo numero di mare di cose per cui per cui arrivi ad avere non lo so quanti anni che hai visto tutto e avendo visto tutto non c'è più niente di nuovo non c'è più niente da scoprire ti deprimi certo perché hai tutto hai visto tutto hai fatto tutto c'è anche l'aumento di droghe di sostanze è certo tutto questo che aumenta perché non c'è più la possibilità di scoprire non c'è più il desiderio è tutto desiderato è tutto avuto bisognerebbe tornare all'importanza dei valori sì dei valori sì e qui torna il discorso decisivo proprio dei valori voi quando sentite valori cosa pensate quali sono i valori quanti sono i valori ciò che vale cosa vale quali sono i valori ma sono quelli che sappiamo da tutti sono l'onestà l'amicizia l'intelligenza la puntualità il rispetto la responsabilità ma queste cose è il discorso prima di Anna Arendt non è che sono lì a portata di mano occorre una educazione ai valori e la colpa non è certamente dei giovani i giovani sono la cartina di tornasole per usare questa espressione che si usa in chimica per chimica dell'acido e le basi e così via non sono nient'altro che ciò che manifesta quello che è la società degli adulti il livello di acidità o basicità della soluzione che noi siamo è che loro lo manifestano io per esempio spesso faccio questo spesso quando mi capita di parlare di queste cose faccio questo esempio io a dicembre farò 62 anni sono nato nel 62 quando andavo al liceo non solo io ma quasi tutti noi studenti avevamo oltre che i libri il giornale e vedo che c'è gente che fa così che è la mia età dice sì è chiaro avevamo il giornale arrivava il giornale a casa mia il Corriere della Sera sempre entrato a casa mia ma io mi compravo avevo quelle idee lì compravo l'avvenire vabbè andavo al liceo e al liceo naturalmente ben pochi compravano l'avvenire si comprava l'unità lotta continua il manifesto il quotidiano dei lavoratori e vabbè ognuno aveva i suoi si discuteva c'erano quelli di destra che compravano il borghese non c'erano quotidiani ma compravano il borghese e altre cose ancora che non sei candido forse c'era una cosa tipo va bene ma perché lo facevamo perché eravamo perché eravamo impegnati e volevamo cambiare perché eravamo no perché eravamo la cartina di tornasole della generazione dei nostri genitori i quali era la generazione del cosiddetto dopoguerra che dovevano ricostruire l'impegno l'impegno dei sacrifici rifarci e noi ritraducevamo alla nostra maniera quel senso dell'impegno che c'era quindi non era merito nostro o demerito che siamo questa passione politica questo impulso questa responsabilità questo voler essere presenti le manifestazioni la criticità e tutte queste cose era semplicemente lo ripeto di nuovo la ritraduzione alla nostra maniera dell'impegno dell'aria di impegno che respiravamo in casa e se i giovani adesso sembrano in apparenza più depressi come è stato detto beh perché se depressi siamo noi perché le cose perché noi invece di educare ai valori ci accontentiamo delle cose vogliamo le cose l'edonismo che noi che noi che noi viviamo noi la nostra generazione la macchina i più come dire si ripresenta nei giovani in quella maniera lì quindi guardate io penso una cosa non per voler fare il moralista ma o noi o la nostra società riprende ma sul serio a il primato della morale dell'educazione dell'educazione morale della coscienza morale che parlare di queste cose sembra di parlare di cose del medioevo ma bisognerebbe tornare dalla prima elementare partire dalla prima elementare ai valori educare i bambini ai valori oggi invece questa cosa non la si fa più non lo fanno più le famiglie lì con la loro gran parte danno le cose ai figli danno le cose qualche nonna tenta di fare come dice è la nonna che fa questi discorsi appunto discorsi da nonna non le fanno a scuola a me è capitato di parlare con degli insegnanti che dice io ho provato a fare dei discorsi educativi ai ragazzi ho avuto dei problemi non piccoli peraltro non piccoli non si permetta lei per cui non lo fanno le famiglie perché non lo fanno e i giovani ragazzi non vengono più educati ai valori alla disciplina disciplina cioè già la parola disciplina sa di antico sembra una cosa sbagliata siamo capitati ormai dire disciplina sembra una cosa sbagliata in realtà i termini le parole non mentono da dove viene il termine disciplina viene da disco che non è il disco disco music è disco prima persona singolare del verbo discere imparo imparo tra cui viene discepolo cioè se tu non hai disciplina interiore ed esteriore non impari tant'è che noi diciamo disciplina non solo per dire il comportamento ma anche per dire una materia una materia di studio la mia disciplina dice un fisico rispetto alla fisica è la mia disciplina quindi vuol dire che la materia tu la possiedi nella misura in cui hai disciplina se non hai disciplina non dissi dissi non c'è discepolato e non c'è imparamento non si dice imparamento ma come si dice quando una cosa la impari apprendimento ecco apprendimento direi che su questa nota non abusiamo oltre della disponibilità di Vito Mancuso che ringraziamo enormemente vi ricordo voglio soltanto ricordarvi che domani sera concludiamo questo percorso di filosofia al mare con Massimo Cacciari e Francesca Rigotti che è già qui e come dire già pronta per domani e soltanto domani alle ore 21 non alle ore 21 e 30 come siamo abituati alle 21 perché c'è anche la cerimonia di consegna del premio nazionale di filosofia Carlo Tattasciore voilà buonanotte grazie 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 a tutti